E' che fintus! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella quinta parte di... Non mi ricordo il gioco... 3... Ryman... 3... PS3... Con... Gioca la Rassa Pro Gamer... Perché prima abbiamo visto The Guerrero... E' ovvio... E riprendiamo la quinta parte dopo il disco party ragazzi... Ti accorgono già in modo ospitale... Qua invatti... Aspetta... Come era? R1... R2... Che cazzo... Ah... Vaffanculo... L'altro dorsale... Questo che è urlato è PS2... R1... Aspetta... R2... R1... R2... R1... R1... R2... R1... R2... quando... ah ma rimane un bingo in realtà... nooo... ragazzi... rimane bloccato all'olata... nooo... a sinistra... non ho capito... casi di qua... c'è un forziere a terra... qua... scendi... ma adesso a sinistra... guarda a destra... ah qua c'è da un po' c'è... guarda... soccoso... ma che tu cazzo... non devi andare... non devi andare di qua... ok... raga... eh... purtroppo... che ci possiamo andare... non mi ricordo i comandi... lui gioca un giorno... un giorno dopo giù si scuola ti i comandi... esatto... lo so io questo tuo... quando è fatto che fa sbaglia? no... ho capito... hai visto che sbaglia? ma lo vuoi? perché... se attacca... ecco... devi attaccarlo questo tuo... Rayman... no... Rayman... eh... Rayman è quadrato... oh... gli hoodlum hanno rinchiuso tutti i tizi... non è carino... colpisci lo... quando vuoi scendere? ah... che sento... saluto... saluto... io mi chiedo... il boss finale che non vedremo mai... per capire questa serie finirà come l'altro ne è dimenticatoio... ma se... non so se ci arriviamo... come lo facterà il boss finale? ti rende quel compagno... capito? non ti deve travestire... devo andare dal dottore... e andiamo... sai che... sai che i globo... lui... no... questo è Rayman... no... ragazzi... anzi... ps2... eh... metti in pausa... aggiusta l'audio è tutto... perfetto ps2... c'è un corso... destro... non lo puoi rompere ancora... ti sembra un altro costume... ah si... quello rosso... cioè... si ricorda alcune scene ma non si ricorda i comandi... io non ho capito... ragazzi... questo episodio l'avevo caricato da un canale unico... ma non è vero... quale canale unico? mi sono androiato ragazzi... chiedo scusa... chiedo scusa... chiedo scusa... l'avevo... l'avevo... realizzata ma... scusami no... dai lati... dai lati... porca elle... no? che è davvero una porcona... ma... dico io... ma... possibile che... di porti i bambini sul canale unico che non abbiamo? no... avevamo... ma poi no... sai che significa schivare proiettile? no... me lo dovevano insegnare... e busca i... cosi che ti dovevi... eh dai... questi sono i pugni più forti... però il costume è... tu hai scritto l'avestimenti... stanno diventando... vabbè c'è l'ombre coglione... anche... che funzionano... si riconosce subito... ho detto... questi avestimenti suoi... non devi caricare con questo costume... perché questo qua i pugni più forti... andava l'ombre qua? no... eh... tieni premuto quadrato con questo costume... se vuoi saltare... ah... fai sempre dritto... a sinistra... tieni premuto quadrato... ah... era di qualche... eh... abbiamo salvato un altro... eh... devo andare... la natura c'ama... eh... deve andare in bagno... ciao ciao... tieni premuto quadrato... con questo... tieni premuto quadrato... perché c'è la porta qua davanti... eh... ecco ce lo deve fare... eh... è finito l'episodio ragazzi... no... non è finito... pensavo che era finito... adesso è quasi finito... eh... dammi anche a me Rayman... l'aiuto di sopportarli... grazie... sia Blowbox che ha fesso io... con... niente... un cazzo... con... ragazzi... vi ricordo che... se volete possiamo portare... se... anzi... in verità... no no no... fate finta che non ho detto niente... perché... no... niente... portare cose... no... 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 dimmi... ragazzi... vi volevo dire che... volevamo portarvi sul canale Rayman... Ravindrabbits... il sequel... di questo gioco... che se tu non conosce... e dovrebbe vergognarsi... perché è un gioco molto famoso per la tua... è un party game... no... però il problema è che... non so se lo posso recuperare... perché Joker... spaccia... spaccia... giochi di contrabando... spaccia... acqua fonda e noce... no no... oltre la fonda e noce che... io l'ho detto... dire... pure... fai giochi di contrabbando... esattamente... come il pseudo che contrabbanda... le coppie del gioco della chiama... io contrabbando... cose più grosse... il gioco della chiama... ovvero... la tappa... no vabbè... scherziamo ragazzi... adesso è difficile... via... mi piace... mi piace... ancora... ancora... no hay ... guardate x... sembra me attento a alcuni piraglia che compaiono... guardate x? si... spostati... capito come? devi scansarle... ma insieme? Sì, ma più veloce stai per indietro. Ce l'hai quasi fatta, vabbè l'ho fatto i palpire, puoi spostarti fino a quando non tocchi il muro, quindi non ti preoccupare. E finisce la quinta puntata di Rayman 3. Rayman. Rayman, ragazzi, se volete una sesta puntata, ve la portiamo la stessa, non è che cambia qualcosa. Vediamo se c'è una cazzi in, c'è una cazzi in, non c'è un cazzi in. Wee, wee, ragazzi. Eh, Globbox è recitato. Ragazzi, ci vediamo la sesta puntata. Rayman forever. E, gioca da Goblo Pro Game. Globbox. Globbox Pro Game. È tutto. Ciao ragazzi.